Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Mi riprendo volutamente dal basso, guardate! Oh! Senza trucco, senza filtri, senza photoshop Guardate pure! Guardate pure! Io non ho mai nascosto di avere il doppio mento Riprendo così, facendo finta di non avere i doppi menti Ma il punto è che io non ho alcun tipo di problema Non ho complessi, sono senza trucco Quindi, voglio dire Comunque, torniamo seri per un attimo Allora, ho postato delle foto della cialtrona, ovvero Eva Perché, siccome si diverte a burizzare me e mio marito E non la finisce, e difama, e mette in giro voci A quanto, veramente, vabbè, solo nella sua testa esistono E vi ho messo in community anche lo screen Anche se non dovevo, assolutamente Lo screen delle mail di Mondo Convenienza Perché sempre sotto il canale di quella lì C'è scritto Impossibile! Gliel'hanno regalata il comune Perché? Per prendere la cucina Bisogna prendere le misure e quant'altro Ah, perché no, le misure non le abbiamo prese No, avete ragione Non vendono le cucine Pezzo bloccato Cioè, composizione bloccata No No, no, no No Le cucine le vendono solamente su misura Certo, sì, sì, come noi E comunque Le consulenze su misura Si possono fare anche online Con l'appuntamento online Cari, capri, ignoranti e frustratoni Eh Perché qua, chi più ne ne metta Io Faccio qualcosa Uuuuh Che vergogna Buu Wow Che bo di scemi quelle là Ma quello che fanno a me E i bo di scemi che mi fanno da anni Il bullismo La diffamazione va tutto bene Nessuno grida allo scandalo Prendono la targa dell'auto Dove ci sono dati sensibili Quando Qualsiasi Dove qualsiasi maniaco Potrebbe risalire Eh Potrebbe Può risalire all'indirizzo Contro la nostra volontà Che non abbiamo voluto Divulgare la targa Va benissimo Poi Tu scendi Quasi Ai loro livelli Ehm Che vergogna E quella Ma sapete che c'è Ma fatela finita Non me ne frega niente Di quello che pensate La sera faccio una live E questo è un vlog flash Io Non ho nulla da nascondere Nulla Comunque ripeto Vi ho messo le mail Dove provano Che si è appresa La mondo convenienza La cucina Ho messo la prima Per far vedere Che la mail È quella di mio marito Ovvero Dado L'ha trovata anche Sotto il canale Il suo E Appunto Ci sono le mail Di mondo convenienza Che attestano Ovviamente Non vi faccio Registra schermo Perché ci sono Tante altre mail E quindi No La privacy È privacy Ma quelle sono mail Che non posso Assolutamente In alcun modo Aver creato Perché io non sono Né una fetida Né una cialtrona Di crispiano Assolutamente Sono verissime E casomai Ve le faccio vedere Lo schermo Ve le faccio vedere Live Perché Registra schermo Registra proprio Tutto 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 E sapete che C'è Avete rotto Veramente Cioè Mia suocera Da l'esasperazione Ha fatto la battuta Ma secondo voi Le cucine Vengono regalate Dal comune Va bene Allora Mi metto anch'io E chiedo Voglio La cucina E Voglio anche altre cose Ma Ma stiamo scherzando Cioè Magari il comune Vi può regalare Buoni Per andare da uno bravo Da uno psichiatra Che vi fa analizzare Che cosa avete Che vi passa Per l'anticamare Il cervello Quello forse Quello forse È una cosa Fattibile E doverosa Che dovete fare Comunque Sono veramente Stufa Sono veramente Schifata Dallo schifo Che fate Veramente Già sera Faccio una live Grazie